Buonasera Massimo, questa settimana ti propongo di cambiare un po' gli schemi, cambiamo perché sono stanca, sono anni che parlo di salute, di malattia, di covid, di restrizioni, di vaccini e sono anche anni che rispondo alle tue domande, per cui stavolta se a te va bene io cambierei un po' tutto e ti farei io una domanda, una di quelle domande. Il mondo l'incontrare, ti faccio intervistare, va bene. Esatto, sai quelle domande, una delle domande che noi facciamo più spesso, soprattutto alle persone a cui vogliamo molto bene, quindi ti chiedo Massimo come stai? Chiederlo a un ipocondriaco per darti una risposta di 6 a 7 ore, diciamo complessivamente bene per quanto si possa stare bene dopo due anni come quelli che abbiamo passato? Eh sì, beh, in effetti stare bene, stare bene significa essere in equilibrio, tu Massimo stai bene così come io, sto bene come tutti noi, stiamo bene quando il nostro corpo è in equilibrio, quando dico il nostro corpo intendo naturalmente anche il nostro cervello perché è quello che dà origine a pensieri, emozioni e sentimenti, quando quindi il nostro corpo, il nostro cervello è in equilibrio noi abbiamo questa sensazione di benessere, quando invece stiamo male cosa succede? Una malattia che cos'è? Non è altro che un'alterazione di questi equilibri del nostro corpo che appunto vengono stravolti, aumenta il battito cardiaco, cambiano gli ormoni che vengono rilasciati, il sistema immunitario si attiva e produce molecole che agiscono su tutto il corpo e questo appunto causa un'alterazione dell'omeostasi, noi patologi la chiamiamo così, cioè una perdita dell'equilibrio. Omeostasi cosa vuol dire? Vuol dire appunto equilibrio, quando tutto il nostro corpo è in perfetto equilibrio, mentre invece una malattia è un'alterazione di questa omeostasi, il nostro corpo reagisce allora per ricortarla verso l'equilibrio, questo può accadere appunto come quando c'è un'infezione, come abbiamo detto, quando c'è una malattia di vario genere, ma può accadere anche quando c'è un forte stress emotivo, anche un forte stress emotivo è una perdita di equilibrio, è uno squilibrio tra le sollecitazioni esterne e le risorse a cui noi possiamo attingere per affrontarle. Per esempio se io ti chiedo come stai, qual è la prima cosa che pensi così distinto? Come stai? Cosa pensi? Penso al tempo, cioè al tempo all'invecchiare insomma, un po' all'inesorabile decadente. No, ma sì e no, poi non è vero, io in realtà sono un eterno bambino che non pensa mai al possibilità di invecchiare, però so che quasi tutti pensano a quello diciamo. Però sai anche l'invecchiamento, questo è molto bello, perché anche l'invecchiamento non è altro che uno squilibrio tra il danno che il nostro corpo, le nostre cellule ricevono nel tempo appunto e i meccanismi che sono deputati alla sua riparazione. Cioè potremmo dire che noi invecchiamo perché a un certo punto non riusciamo più a ripararci. Però la scienza dovrebbe aiutarci proprio in questo, no? Ah beh, lo fa, lo fa da tantissimo tempo. Se tu pensi che la vita media dell'essere umano è stata intorno ai 35 anni, sempre, mediamente, finché nel Novecento non sono arrivati appunto i farmaci, gli antibiotici, i vaccini, le acque pulite e ogni anno da quel momento in poi la nostra vita media è aumentata. Perché è aumentata? Perché noi abbiamo da un lato potuto infliggere meno danno al nostro corpo, per esempio parliamo tanto di prevenzione adesso con le diete e dall'altro abbiamo trovato dei sistemi per riparare i danni, anche proprio per ripararli fisicamente. Pensiamo a un trapianto di corne, a un trapianto di cuore, quindi abbiamo degli strumenti che ci permettono di aggiungere vita agli anni e puntare verso un invecchiamento libero da malattia. Quella è una frase bellissima, aggiungere vita agli anni e non anni, cioè migliorare la qualità della vita. Però qui c'è sempre il solito tema, Antonella, il rapporto corpomente. Fammi dire che molto spesso è anche una delle ragioni, delle polemiche di questo periodo, non leggiamo anche delle storture, ci sono anche di ciarlatani che su questo discorso del corpomente hanno cominciato a dare delle cure di placebo per curare malattie gravissime. Invece qual è il vero rapporto che c'è tra il corpo e la mente? Beh, allora questa, prima di tutto la mente è corpo ovviamente e pensa che ci sono gli studi più recenti che dicono che i microbi, quella che noi chiamavamo una volta la flora batterica che abitano nel nostro colon, sono appunto responsabili per esempio della depressione, dell'ansia o anche della nostra capacità di ricordare le cose. Quindi spesso il nostro benessere dipende da piccole molecole che vengono prodotte da questi batteri, da questi microbi che ci abitano. Così come anche lo stress, anche per esempio pensiamo a quello che abbiamo vissuto, a quello che hanno vissuto gli adolescenti durante la pandemia, in quel caso c'è un'azione esterna che comunque però si traduce in un'alterazione di ormoni, di neurotrasmettitori, quindi di molecole all'interno del nostro corpo. Consenti, Antonella, per chiudere ti volevo chiedere, c'è stata questa settimana, e rientra benissimo nel discorso che stai facendo, c'è stato un referendum che non è passato, è stato bocciato perché il Presidente della Corte ha spiegato che era scritto male e ha invitato il Parlamento a intervenire sull'eutanasia con una legge, campacavallo, perché il Parlamento non lo fa da anni. E qui volevo chiedere, ma non è che anche l'eutanasia però in qualche modo ha a che fare con lo star bene? Cioè in certi casi estremi non diventa anche un modo appunto estremo però per prendersi curi di se stessi, per non soffrire più. Parliamo di casi estremi, è preciso. Questo ovviamente è un tema estremamente delicato che va ben oltre la scienza naturalmente, però se pensiamo a tutte quelle persone che sono condannate a vivere una vita di dolore senza possibilità di venirne fuori, io penso che per queste persone anche il solo fatto di sapere che volendo possono mettere fine all'incubo che stanno vivendo, questo potrebbe essere appunto una risorsa in più che loro hanno per gestire lo squilibrio in cui sono sprofondati. Quindi a volte basta sapere di avere una via di uscita per stare meglio. Speriamo quindi davvero che il Governo a questo punto si faccia carico dell'esigenza che il Paese ha di trovare una soluzione e di avere una legge per il fine vita che aiuti le persone che non ce la fanno più. Questo tocca più ancora al Parlamento che al Governo, però certamente anche perché se c'è una legge è sentitissima. Io penso che se esistesse davvero la possibilità di far votare gli italiani oggi con le dovute sarebbe una stragrande. La raccolta firme, esattamente. Grazie, grazie Antonella. Sabato prossimo, grazie davvero. E lì chiederemo a te come stai sabato prossimo. Ci invertiremo di nuovo le parti. Grazie.